Allora, Ministro Bianchi, la scuola del futuro come la vede? Tre parole. Nazionale, perché i bambini del nostro paese devono avere tutte le stesse opportunità, al nord e al sud. Inclusiva, perché si parte dai più fragili. E terzo, affettuosa, perché è lì che si impara ad avere l'idea che si vive insieme in un'epoca di violenza, in particolare contro le donne. Bisogna imparare lì a vivere insieme con affetto. Bello, mi piace. Senta, mi fa vedere come si mette la mano. Ha trovato un sistema per non farsi pagare le orecchie, che è da brevettare. Guarda, mi metto la mascherina, me la imposto, devo coprire naso e bocca, e poi la chiudo, ed è un invito a tutti. E c'è un cordino dietro, con un nodo, e la mascherina si... Quindi tu non te la metti dietro le orecchie, non ti di passare le orecchie come tutti noi. E io la brevetterei, la mascherina del Ministro Bianchi. Grazie presto. Torni presto. Grazie a tutti e soprattutto veramente un carissimo buon tornato a scuola a tutti. Anche io, bocca al lupo ai ragazzi. A domattina alle 11.